Perché sei con gli altri? Stiamo andando al cercello, partiamo per il weekend. E non pensi sia più importante parlare con me? No. E allora perché sei qui? Senti, a me mi dispiace per quello che ti ha fatto mio fratello. Io poi ho pensato che tu potevessi andare a letto con lui, non ci ho pensato come ti sentivi. Ok. Ti chiedo scusa. Andiamo un po' più di qua. Non funziona, no, non funziona, capisci che non funziona? Dimmi una cosa. È finita? Sì. Perché? Perché tu non ti sei fidata di me e adesso io non mi voglio fidare di te. Punto. Adesso ho capito perché fai lo stronzo. Me ne posso andare per piacere? Tu vuoi stare solo? È ok. Però io e te dobbiamo stare insieme. E lo sai. Dimolo anche tu che dobbiamo stare insieme. E allora io... Me ne devo andare. Mi dispiace. Me ne danna. Mi dispiace.